In questa fiera presentiamo due importantissime novità uniche nel nostro settore dell'isolamento termico che sono due prodotti, l'EcoEspanso e l'Ecopore, che hanno raggiunto la certificazione ambientale di prodotto e quindi il marchio EPD. Hanno una caratteristica di permettere di isolare, quindi di risparmiare oltre il 40% dei costi di energia, ma soprattutto il 66% di quello che è l'impatto ambientale in aria e in acqua. Quindi possono garantire un'ottima permeabilità, un ottimo isolamento termico e soprattutto sono inalterabili nel tempo e quindi sono garantiti 10 anni di applicazione. Grazie